Ciao Lisa? Non si chiama Lisa. Lo so, ma se ogni volta che passa le dico ciao Lisa, penserà che io abbia avuto una storia con una che le somigliava. E nascerà in lei un bisogno inconscio di conquistare la mia approvazione. Il resto è tutto in discesa. Fego. Come mai vuoi fare l'informatore farmaceutico? Per soldi. Ho sentito che lanciamo un farmaco per le disfunzioni sessuali. Il Viagra. Lo voglio. È per uomini che da anni non hanno un'erezione. Hai degli occhi stupendi. Questo è il massimo che sai fare. In realtà tu non hai voglia di conoscermi. E non hai neanche voglia di fare sesso. Tu hai solo un disperato bisogno di avere una o due ore di vacanza da te stesso. E per me va bene così. Perché anch'io voglio esattamente la stessa cosa. Credo che tu ora debba andare. Lei ti ha rispinto. È per questo che ci tieni tanto a conquistarla. Una cosa senza impegno. È duro crederci. È davvero duro. Sai, gonfio, borgoglio, non lo affermo. Io ti amo. Cosa? Non l'avevo mai detto a nessuna donna. Tutto bene? Jamie, lei è malata. Sei sicuro di poterlo fare? Ci sono tante cose della vita che non capisco. Si incontrano migliaia di persone. Non sto scappando. Non puoi scegliere tu. Poi un giorno ne incontri una. Che ti cambia la vita. Per sempre. Che ti cambia la vita. 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 Grazie a tutti.